Che cosa significa Riccione? Che canzone è? È dedicata a chi ha scritto... è vero dai, l'Aquila Reale è dedicata... Però che cosa ha voluto comunicare Tommaso Paradiso con questa canzone? Chiediamola lui, dov'è Tommaso Paradiso? No, però per te che l'ha ascoltata la canzone? È bellissima, è divertente, è bello. È un ragazzo ideale, si può dire? Sì, però... Senza mezzi termini, sì. Anche per te è un ragazzo ideale? Sì, sì, sì. Ma perché è un ragazzo ideale? Perché è intelligente, canta bene, è un bell'uomo... Poi? E basta, cioè... Famoso, eh? Va, quello... Io li seguivo già un po' da prima, già da sold out, che mi piacevano, però con l'uscita di questo tour e questo CD hanno fatto veramente vedere tante belle cose, tante belle canzoni. È un gran... È un gran bel pezzo... Uomo! Da uomo! Esatto! Ma mi sembra di capire che molte ragazze qui sono qui per lui, più per la musica. Però io sono qua per la musica, ovvio che lui, oltre ad essere un ottimo artista, è anche un bravissimo... esatto, è anche venuto fuori bene, ecco, diciamolo. Siete d'accordo anche voi? D'accordo, d'accordo, sì. È un valore aggiunto alla musica. Do che qua molte ragazze sono venute per vedere Tommaso Paradiso. Più che per i giornalisti. Sì, è vero. Per... Come mai questo è successo? Perché è un figone. Martedì 23 ottobre, sono a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, per una delle date del tour dei giornalisti. La band è guidata da Tommaso Paradiso. È il fascino di Tommaso Paradiso a trascinarvi qua? No, esatto. Anche e soprattutto... Diciamo è lui, è lui il personaggio del gruppo. Sì, assolutamente. Assolutamente. Tommaso Paradiso, chi è? È il cantante. Siete qua per lui? È ovvio. Non per i te giornalisti, solo per lui. Per i te giornalisti, ci piacciono tutti e tre come musicisti. Come uomo più Tommaso. Più Tommaso Paradiso. Secondo me ha giocato alle carte giuste. E poi è un genere musicale che in Italia è abbastanza nuovo, secondo me, l'indie. Esatto. Questo indie pop è un po' così. Ma lui nella musica chi parla? Chi parla, racconta dei giovani, dei problemi dei giovani? Che cosa racconta in queste canzoni? Sì, principalmente ciò che vivono i giovani, secondo me. Cosa vivono? Vabbè, partendo dalle canzoni Riccione, Felicità Puttana, comunque sono canzoni dove secondo me i giovani si rivedono molto. La vita, soprattutto, che fanno i giovani. Esatto. Sì, concordo. No, è vero, non avrei utilizzato parole migliori. Ma come mai il pubblico è in prevalenza femminile a questo concerto? Eh, per la domanda per cui ci hai fatto all'inizio. Perché al prossimo uso Tommaso Paradiso no. No, perché forse è un genere che più piace alle ragazze o per il cantante in sé, secondo me, magari potrebbe. Anche a livello d'età, comunque. Mancano tre ore all'inizio del concerto. Vai. Come stai? Male. Come mai? No, sto bene, sto bene. Un po' citata, però sto bene. Ma perché sei citata? Eh, emozione. Nella prima volta. Sì, questo sì. I giornalisti. Chi sono? Che musica fanno? Oddio. Beh, io conosco Tommaso Paradiso, il cantante. Musica, non lo so. Oddio, il genere non te lo saprei dire. Bella? È sufficiente. È sufficiente. Oddio Riccione, la hit più famosa dei giornalisti nel 2017. Felicità, amore e divertimento. Serate, tutto fuoco. E serate. A me piace Riccione, quindi... Riccio, per te Riccione, per te? Riccione, per me Love, l'ultimo. Love? Questa nostra subita canzone d'amore, bellissima. E chiudendo, ti immagino, immagino, fiumicino... Sei pronto per il concerto? Prontissimo. Prontissimi. Parlami di Riccione, che canzone? Eh, ora... Riccione. Sto correndo, bisogna fare troppa fila. Qual è il significato di Riccione, della canzone più famosa dei giornalisti? Riccione è l'emblema di un periodo che gli italiani hanno vissuto negli anni 80, che è indimenticabile e che quindi ha fatto rinascere un po' la voglia di sognave per la generazione dei trentenni. Perché? Ma forse è il suo modo di essere, il suo modo così molto anni 80. Anni 80? Sì. Come mai? Questo è l'anno 80? Non lo so, sarà il suo modo di essere. Queste sonorità riprese dal mondo anni 80? Lo vedo così nella vita in realtà, a prescindere adesso da quello che fa. Cioè lo vedo proprio, lui esteticamente è proprio anni 80, è il tipico uomo anni 80. Come siete qua, per Tommaso Paradiso o per i te giornalisti? No, io per Tommaso Paradiso. Per Tommaso Paradiso. Per lui? Eh certo. Ma perché? Perché ha tutto questo successo fra i giovani, Tommaso Paradiso? Beh diciamo che è un bel ragazzo, poi è anche bravo. Che gruppo è? Che musica fanno i te giornalisti? Boh, sinceramente non la saprei classificare. Una musica a me piace. Mi piace. Come si può dire? Indie pop, se direi di sì. Sono partiti dall'Indie e poi ora sono molto più pop, cambiando anche il produttore. Non so se capisco, ma lui ne sapevo. No, mi garba. Da quanto tempo li segui? No, allora seguire li seguo dall'album precedente, soltanto che ho iniziato a informarmi un po' di più con quest'ultimo album, leggendo anche quegli articoli, cioè mi informo un pochino. E quindi basta, cioè ho comprato il cd, l'ho ascoltato, mi sono fatto la mia opinione. Che canzoni ti piacciono? Riccione, cosa è che ha fatto New York? L'album o quelle prima? In generale? Allora, dell'album prima, l'ultimo grido nella notte e quindi quest'album c'è Milano-Roma, è molto carina. Come mai qui al concerto dei te giornalisti? Per Tommy Paradiso. Maso Paradiso è bello? Molto bello, sì. Ma siete qui per lui o per la musica? Per la musica, per lui e per la musica. Il significato della canzone Riccione? Che c'è un bellissimo sole ed è un bellissimo posto per trascorrere le vacanze. Perfetto. Sole, vacanze, poi? Estate, morosi, uomini, ragazzi, belli. Riccione, cosa vuol dire? Cosa significa? No, io non parlo. Si pensa all'estate e poi... Ecco, come mai ci sono tante ragazze e pochi ragazzi al concerto dei te giornalisti, secondo te? Perché sono costretti ovviamente dalle ragazze. È vero? È vero, è vero. Ma sei qui per Tommaso Paradiso o per i giornalisti? No, per entrambi, dai, per tutti e due. Per il gruppo e per lui. Allora, Tommaso Paradiso, chi è? Cosa fa? È il cantante... Sì, della band. Ok? Sì. Non so. Siete voi più esperti. Cantautore? Sì. Ok. Quali canzoni sono, diciamo, quelle che ha firmato le più belle? Secondo me è completamente la migliore. Sì. Poi, del nuovo album. No, ma devo parlare di... New York. New York, completamente. Riccione? Sì. Questa nostra stupida canzone d'amore. Promiscuità. Promiscuità. Il tuo maglione è mio. Controllo. Bellissimo. Sì. Ma come mai sono diventati... Insomma, hanno fatto successo i giornalisti? Qual è... Perché? Beh, Riccione sicuramente era la canzone dell'estate, poi dopo io l'ho scoperto di grazie a lei, mi ha fatto ascoltare completamente e da lì abbiamo iniziato... Sono un po' le canzoni che ascoltiamo in estate col gruppo. Ma perché ha tutto questo successo, Tommaso Paradiso, i giornalisti... I giornalisti. Più Tommaso Paradiso, mi sembra di capire. Dei giornalisti. Ma come mai ha tutto questo successo? Non lo so, forse perché scrivono le canzoni bellissime. E cosa raccontano in queste canzoni? Problemi dei ragazzi? Eh, in generale... Problemi della vita quotidiana. Soprattutto. Poi c'è l'amore. È il giorno della vita. Riccione, che canzone è? È bellissima. Che cosa ti ha trasmesso? Le mie stati in Romagna. Da quanto tempo li seguite? Da parecchio. Da inizi? Più o meno. Ecco, come si può definire il loro tipo di musica? Oddio. Musica generazionale, raccontano i problemi dei giovani. Sì, è un po' particolare, ti deve piacere il genere. Come sarà allora questo concerto? Pazzesco sicuramente. Già visti altri, dei giornalisti? No, è il primo. Che musica fanno i giornalisti? Musica generazionale, pop, indie? Indie, pop. Canzoni preferite? Beh, sicuramente... No, sicuramente completamente. Ecco, ma perché ha questo successo Tommaso Paradiso? Secondo me perché ci sa fare. È bravo, fa delle belle canzoni e anche un bravo artista, dai. Canzone preferita? Oddio, domandone. Tutte, sono belle tutte. Le ultime, sonne, completamente. Perché sei venuta qui al concerto dei te giornalisti? Perché mi piacciono i te giornalisti. Ma ti piacciono più i giornalisti o Tommaso Paradiso? Tutti e due, dai. Tutti e due. Sì. Ma che musica fanno i giornalisti? Musica indie, musica pop, musica generazionale? Come si può definire? Indie, credo. Sì. Musica indie? Sì, un pop, beh no, pop no. Secondo me è indie. E Tommaso Paradiso, il frontman del gruppo, cosa vuoi dire, cosa pensi di questo musicista italiano? Beh, credo che sia una novità nel parola italiano della musica, che abbia originalità e un mondo di comunicare con la gente che è nuovo e non è banale, quindi piace per questo. C'è il significato di Riccione. Quale è Riccione? Non Cocoricò, dillo. Ma niente. Lei è la cantone, non Riccione. C'è il significato di Riccione. C'è il significato di Riccione, tanto sole, tanto mare, spiaggia. Tanto sole, tanto mare, spiaggia. È importante, tanta? Dillo a tu. Eh, Leo però dai, ce ne aveva neanche i commenti. Comunque Riccione era una bella canzone. Molto bella. Non siamo preparate. La compagna, sua figlia. Due figlie. Due figlie. Sono davanti a uno degli ingressi del palazzetto di Casalecchio di Reno, ci sono già delle fan qui sedute, pronte per entrare. A che ora siete arrivate? Alle sette. Alle sette. Ma sì. Come mai? Perché vogliamo la prima fila, quindi. Ma vi piace più Tommaso Paradiso o vi piacciono più i giornalisti? I giornalisti in generale. Vabbè, Tommaso fa il suo. Cioè, fa il suo. Ecco, ma loro sono già da un po' di tempo, da un po' di anni che sono sulla scena musicale. Solo in questi ultimi anni però hanno avuto questo grande successo di pubblico. Come si spiega? Non lo so, forse perché le canzoni sono belle e sono cantabili. E sono giovani, prendono un pubblico giovane, insomma. Molto successo fra il pubblico femminile, Tommaso Paradiso. E' la barba. E' la barba, e' la barba, e' la barba. E' la barba, infatti noi l'abbiamo levata, vedi? Quindi è la barba, un segreto. E' la barba. Però dai, torniamo all'argomento della musica dei giornalisti. Che cosa trasmettono le loro musiche, le loro canzoni? Secondo me parla tanto sull'amore. Sull'amore e allo stesso tempo sulla felicità. Sei qua da solo o sei venuto? Sono qua da mia ragazza. Sei venuto con la tua ragazza, ecco. Ho fatto un regalo alla mia ragazza. Ho fatto un regalo alla mia ragazza perché gli piace tanto Tommaso Paradiso e quindi abbiamo deciso di venire qua a Casalecchio di Reno. Ma sono qua tutti per Tommaso Paradiso? A quanto pare si, insomma. E' giusto così, insomma. E' un bravissimo cantante, soprattutto i giovani, piace molto. Come mai al concerto? Come mai? Mi c'ha blocato. Obbligato. No, non è vero. Lo sento dire molto, molte volte questa frase, che molti ragazzi hanno accompagnato la propria ragazza. Quindi anche tu. Sono anch'io, mi è toccato accompagnarlo. Come mai tutto questo successo? Eh, Paradiso e tanta roba. No, 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 per tutto, dai. Sono bravissimi, basta. Continuo a sentire cosa dicono i fan qui in attesa prima del concerto. Ecco, come mai vi piace Tommaso Paradiso? Le canzoni che fa. Eh? Sì, vabbè, è un bel ragazzo però. È molto fascinante. Principalmente le canzoni. Principalmente le canzoni e poi anche perché è un bel ragazzo. Ma sì. Allora, perché siete qua? Volevamo venire a un concerto, abbiamo accompagnato una nostra amica che ci teneva e basta. Ti piace la musica dei giornalisti? Sì, abbastanza, abbastanza. Ecco, ma come mai è avuto tutto questo successo il gruppo nell'ultimo periodo? Rispetto a pochi anni fa? Le canzoni sono orecchiabili, le senti spesso in giro e quindi, boh, piace. Non è solo la bravura, neanche tutte le parole, quello che comunque trasmettono al pubblico, esatto. È una cosa molto bella. Lavorando in una radio ti dico che gli ascoltatori sono molto, molto contenti dei loro brani. Quando passano i loro brani c'è riscontro dal pubblico? Sì, perché comunque, come ti dicevo, oltre a trasmettere il senso di musica e la bellezza dei brani, è proprio il testo e la sostanza che trasmette. È quello proprio la cosa più bella. Qual è la formula del successo? È Tommaso Paradiso o proprio il gruppo, i giornalisti? Io credo che sia il gruppo, ma anche il nome comunque, perché hanno trovato un nome, diciamo, che è abbastanza, come dire, esatto. E Tommaso Paradiso comunque c'ha del suo. Ha un carisma che lui, come poche altre persone, riescono a dare sensazioni al pubblico. Un po' con la voce, come con le parole che dice, ha parole molto profonde, testi molto... Ma cosa racconta in questi testi? Racconta i problemi dei ragazzi, della vita quotidiana? Sì, partendo dalle piccole scene di vita quotidiana, alle bellezze dell'estate, all'amore, logicamente, perché è un po' intrinseco in tutti i testi che racconta. È più Tommaso Paradiso a richiamare pubblico o è proprio il gruppo dei giornalisti? No, è tutto il gruppo, sì, sì, è l'insieme che fa la forza. Cioè, le canzoni, boh, sono sempre state comunque molto belline, anche quelle, diciamo, precedenti, e quindi magari adesso, non so, sono diventate più... boh, hanno attirato più pubblico. Le ho regalato i biglietti come regalo di anniversario. Ok. E quindi... Un bel regalo. Sì, direi di sì, era quello che voleva lei, io faccio i regali che mi dice lei di fare. Ecco, ma Tommaso Paradiso, che persona è, che personaggio è? Lo so io, lo so io. Fenomenale. No, 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 si dice che lui odori ogni giorno di un odore diverso, quindi questa è la sua caratteristica principale. Cambia profumo sempre? No, odore. Ah, l'odore. Sì, tipo pelle delle giacche, roba così, quindi è una persona molto odorosa. Ok. È bello. Allora, per te è bello? È bravo. È bello, intelligente, originale. Poi, cosa manca? Odoroso. È odoroso. Perché hanno tutto questo successo tra i giovani? Per me è perché scrivono dei bei testi e comunque le canzoni sono quasi orecchiabili, chi più chi meno, magari, ecco, alcune non piacciono a tutti. A me personalmente sì, però sono molto orecchiabili, i testi sono belli. Siete emozionati, ma perché siete emozionati? Eh, perché, insomma, è un bel concerto, solo che siamo arrivati un po' tardi, allora adesso la nostra tattica è non metterci in fila, perché fra un po' sicuramente avremo bisogno di uscire, insomma, sai, eh? Un po' adesso. Sono dei messaggi semplici ma forti e mi piacciono anche per il loro essere pop e anni 80. Beh, io suono la chitarra, quindi, ecco, il loro, come posso dire, i loro testi, musica, li adoro. Proprio li suono anch'io con la chitarra, quindi... Per me è proprio il loro nuovo modo di cantare, questo genere nuovo, molto bello. Ma è Tommaso Paradiso, che tipo di artista è? Per i giovani principalmente, un artista come un giovane può dire sì, mi piace... E un artista per i giovani? Esatto, principalmente sì, secondo me. Ma che cosa racconta in queste canzoni? Che problemi racconta dei problemi di tutti i giorni, della vita quotidiana, i sentimenti, l'amore... Sì, sì, della vita di tutti i giorni che c'è, sì, che c'è quotidianamente. Io mi rispecchio anche in moltissime canzoni sue, quindi proprio lo prendo a cuore, ecco, proprio arriva diretto. Significato di Riccione, della canzone Riccione. Mi sa molto di estate quella canzone, sì. E poi? Sì, c'è il sentimento che ti ha comunicato. Non è quella canzone che mi ha comunicato il sentimento. Cioè, io già seguivo i dei giornalisti da anni. Da anni. E poi... Prima del successo, diciamo. Certo, ovvio. Ovvio. Siamo partite dalla Calabria a vedere questo concerto. Quindi voi arrivate dalla Calabria e siete arrivate qua a Bologna. Sì, per questo concerto. Un concerto, sì. E poi ci ritorneremo a Reggio, Calabria. A Reggio. Però Riccione che cosa significa? Ma estate. È una canzone sì. Cosa ha voluto comunicare Tommaso Paradiso? Ma non lo so. Nel senso, lui ha molte spacciettature, ecco. Quindi... Mi siete avvicinati alla musica dei te giornalisti? Ah beh, guardandola in tv o così. Basta. E poi ho comprato anche il cd. L'ho regalato a lei. E anche per amore. Love. Love. Ecco, Tommaso Paradiso. Frontman dei te giornalisti. Ecco, che personaggio è secondo te? Boh, deve essere uno deciso per le canzoni che scrive. Uno che comunque... Boh, deve avere una passione per il suo lavoro. Ecco, basta. Sebbene abbiano un po' di anni ormai, però... Penso abbiano fatto una bella gavetta nella quale hanno dato molta fiducia a chi li ascoltava. Nella quale hanno dato il meglio per emergere. E ora stanno continuando a dare spettacolo, ora che sono abbastanza nato. E così possono esprimere quanto sono bravi. Estate, vacanza, allegria. Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso ha tutto questo successo, soprattutto fra un pubblico femminile. Sì, sicuramente. Anche dai bambini, eh? Anche dai bambini? Sì, no, vero. Come mai? Piace musicale, ascoltabile. E poi? E poi... Basta. Basta? Per te? No, la stessa cosa. È simpatico, bello. Piaciavole la sua musica. La canzone preferita? Ce n'è una che vi piace in particolare? Completamente. Completamente. No. No, no. Completamente? Ma chi ha... Ultimo giorno della... Per me è completamente. O anche senza. Sono le più belle dell'album vecchio. La nostra ultima canzone d'amore. Invece Riccione, il pezzo dell'anno scorso, della mare... Quella, però ormai è sentita. La sentono tutti. Troppo commerciale? Esatto. Sì, quella sì. Che musica fanno i giornalisti? È una musica che parla dei problemi dei giovani, della vita quotidiana. Che tipo di musica è per te? Cosa ci senti? Ma lui sicuramente, essendo giovane, conosce, un po' capisce il mondo dei giovani, però non mi sembra proprio un cantante che si interessa del sociale, quanto più l'amore platonico. Cosa dicono le canzoni dei giornalisti? Ma più o meno stessa... ce la penso anche io come lei. Cosa ti trasmettono a te? Ma emozioni, raccontano molto... Cioè ci rispicchia... Dillo che spingi sempre. Non è vero. Spingi sempre. Rispecchiano anche la nostra relazione.